la vita è adesso consapevolezza emotiva non siamo qui per aggiustare cambiare o sminuire un'altra persona siamo qui per sostenerci perdonarci e guerrirci a vicenda si consapevole quando ti stai concentrando negativamente su ciò che sta accadendo intorno a te con altre persone o situazioni perché questo abbassa la tua vibrazione rendendotene conto individui le aree della tua vita che lo fanno e diventando consapevole la tua vita un po più facile c'è più gioia più amore più risate sei nella quiete del tuo cuore e sappi che sei un essere multidimensionale che vive un'esperienza umana il tuo cuore è il tuo strumento sagro la via di casa lascia che il mondo faccia quello che fa non giudicarlo non condannarlo non odiarlo e non amarlo osservalo e lascialo stare man mano che perdi attaccamento a questo mondo attaccamento allo spirito cresce finché un giorno trascende il corpo e diventa quello che sei una divinità gli empatici possono anche ascoltare ciò che non viene detto leggono nelle energie tra le righe e nei comportamenti ascoltano non solo le parole ma anche il loro uso il contesto ciò che può essere trascurato o ignorato il tono e le vibrazioni della voce hanno un senso delle possibili cause e delle intenzioni conscie inconsce dietro a ciò che viene detto mantengono il contatto visivo decifrano le espressioni facciali e i gesti e sentono parlare il silenzio sentono i messaggi senza parole perché l'energia non è mai silenziosa percepiscono anche le energie collettive le persone sensibili e empatiche dovrebbero essere consapevoli della loro energia se non lo sono le loro esperienze sono rapidamente caratterizzate da rabbia sovraccarico sensoriali ansia fisica ed emotiva esaurimento se sei un empatico prenditi cura di te stesso e del tuo cuore consapevole sensibile questo mondo ha bisogno di te amare senza condizioni implica un passaggio difficile si richiede infatti una scelta difficile che è quella del perdono verso gli altri e verso se stessi la vita è adesso cuore e magia ricorda sempre che sei più coraggioso di quanto credi più forte di quanto sembri più intelligente di quanto pensi e due volte più bello di quanto avresti mai immaginato ogni volta che condividi la bontà del tuo cuore finisci sempre per vincere perché la vita è un eco ti restituisce ciò che hai dato ricorda la magia che sei tu sei la versione migliore di te stesso sì tutto sei tu che ti connetti con tutto accogli la vita molti di voi vedono la propria esistenza sulla terra con un movimento meccanico è insensato che va da un punto all'altro se ti prendi un momento solo un momento per fermarti respirare e guardarti intorno scoprirai che la tua vita è più di quanto immaginabile immaginabile è bellissimo sorprendente maestoso ed eccitante anche ciò che vedi come punti bassi e punti difficili è un dono che potresti non sperimentare mai più perciò accettali i grandi cambiamenti avvengono sempre nella sofferenza o nell'accettazione sofferenza di chi non vuole cambiare o accettazione di chi vuole crescere se qualcosa viene a mancare crea lo spazio necessario per qualcosa che deve arrivare è semplice equilibrio finché proverai stupore per le cose che ti accadono e per le risposte che riceverai dall'universo significa che sei vivo dentro finché ti meraviglierai dei particolari di questo mondo senza farti sovrastare dai grandi avvenimenti sociali significa che sei ancora sveglio dentro finché il tuo cuore batterà forte per ogni sguardo che ti concede bellezza a prendere il tuo cuore batterà forte per ogni sguardo che sei ancora un tucuno con il tuo cuore e quando tutti i sensi dell'aria si avranno il mondo alle sue domande significa che sei il primo del tuo cuore batterà forte per ogni sguardo che tutte le stelle invita l'espansione del tuo cuore cosa significa essere reale significa assumersi di una espansione del tuo cuore batterà forte per ogni situazione significa che a volte devi ammettere il tuo cuore batterà forte per ogni sguardo che sei sincero quanto si fa bene significa essere gentili e colpassonevoli anche quando senti il tuo cuore batterà forte per ogni tuo cuore batterà forte per ogni sguardo che sei arrivato ascoltato e risalutato anche quando la risposta dovrebbe non essere quella che avete aspettato essere sinceri dovrebbe non essere faccio per una delle cose più gratificanti che puoi fare per te stesso e per gli altri andiamo avanti attenzione Grazie a tutti